Parlavamo ed improvviso ho avuto un paio di reazioni eccessive. Capisci? Per questo mi è venuta paura di essere cambiato. Ma con te mi ritrovo. E che se pensa a quanti ci lasciarono la pelle? Nel 20, 22. Per fermarli prima che arrivassero al potere. Ma più che la pelle, il lavoro, la casa. E poi mi viene in mente di dopo. Ma sì, i miei ricordi cominciano molti anni dopo. Quando tutti parevano soddisfatti. C'era quell'aria di noia della gente ormai sazia. Chi non era così non poteva più vivere insieme con gli altri. E c'è voluto questo macello. La vergogna. Solo per poter ricominciare un discorso. Se ci penso... Non so se bene, è che a volte non ne posso fare a meno. Né che amore. Di chiedermi se dopo. 20, 30 anni dopo che tutto questo sarà finito. Perché ormai è chiaro, ci si fa. Chissà con quali perdite ancora, ma ci si fa. Se dopo ci sarà di nuovo un periodo in cui la gente si lascerà addormentare. Ad estetizzare. Da un po' di pace e di abbondanza. L'abbondanza e la pace fanno comodo a tutti. A quei due di là. A noi due. A tutti. E magari per una questione di pane minestra si sarà pronti a lasciar perdere tutto un'altra volta. La libertà un'altra volta. Allora c'è solo la lotta. Ma siamo maledettamente in pochi, Anna. C'è il coprifuoco. Presto passiamo in terraferma. Allora ci potremo vedere di più. Grazie. Allora Il copro